Deve li appoggiare così, giusto? Quindi io li devo appoggiare qui. Li posso già preparare, ma non preparo di poco. Tanto è debito, non preparo. Sono 18, ma tanto è tutto. Non è due, è accanto per spiegare tanto. Ma poi non è in tavolo di mezzo. No, 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 non è in tavolo di mezzo. Conta il tempo? O no? No, allora per due minuti. Ah, due minuti. Si ferma. Cambiano a due minuti e calcoliamo l'acqua. Perfetto. A partenza facciamo tutto uguale dal palco. Ci siamo? Vai! Mamma, sticca di l'acqua, devi andare più lenta. A me, ho capito. Nessi, su Porter, fammi schifo, qua che ritradate non c'è nessuno. Mi sto struttando. Grazie a tutti. 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 Quanto? Grazie a tutti. la seconda. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Vai. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. 10. a tutti. a tutti. è vuota. a tutti. 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 bravi. a tutti. 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 10. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. 10. a tutti. 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 bene. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. vai. a tutti. 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 acqua. a tutti. 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 bravi. bravi. a tutti. 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 brava. a tutti. 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 a tutti.